Lazio favorita, ho detto già che dobbiamo prendere con le pinze questa partita, questo Milan che è ferito, che ha tanta rabbia nel corpo, tanta voglia di scattarsi, di prendere i punti perché alla fine come per Milan così anche per noi contano i punti e sicuramente guardando la tabella siamo noi favoriti ma mettendo tutto insieme forse abbiamo qualche vantaggio perché giochiamo anche in casa ma tutto quanto si deve dimostrare sul campo.